A Siracusa e Augusta due gli interventi per atti persecutori a donne. Il primo intervento a Siracusa riguarda l'arresto di un uomo già denunciato da una donna e adesso arrestato dai poliziotti. Si tratta di un siracusano di 51 anni già destinatario di un divieto di avvicinamento all'ex compagna per essersi reso responsabile di ripetute violazioni del provvedimento giudiziario continuando a perseguitare la donna nei suoi spostamenti giornalieri e nella sua vita privata causandole un perdurante stato di ansia e di paura. L'autorità giudiziaria competente ha disposto quindi per l'uomo gli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Ad Augusta invece gli agenti del commissariato hanno notificato a un uomo di 33 anni megarese un avviso di conclusione di indagini preliminari per il reato di atti persecutori. L'uomo con condotte reiterate molestava l'ex compagna di 26 anni tanto da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia. La donna, stanca di tutte le vessazioni subite, ha presentato denuncia dalla quale emergeva che il suo ex da quando si era interrotta la loro relazione sentimentale utilizzando i social con profili falsi diffamava pesantemente la donna e la intimidiva. Inoltre, utilizzava l'immagine della sua ex compagna associandola a noti siti dal contenuto pornografico. L'attenta attività di indagine posta in essere dagli investigatori del commissariato ha consentito così di fare piena luce sull'accaduto e liberare la donna dalle continue pesanti molestie dell'uomo. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati numerosi supporti informatici dai quali emergeva l'attività molesta dello stalker.